ciao a tutti questo è il primo video della serie amaxofobia vattene via ho deciso di girare questa serie di video affinché possano essere utili a qualcuno innanzitutto che cos'è la amaxofobia la amaxofobia è la paura di guidare qualsiasi veicolo a motore che sia motorino auto o che altro paura proprio a guidare paura di fare incidenti io quando sono alla guida vado proprio in panico sudo freddo ho il fiatone è davvero una fobia adesso una persona affetta da amaxofobia ha subito dei traumi ebbene sì io ne ho subito uno a 16 anni ho fatto la bravata di guidare senza patente e mi sono schiantata contro un muro mi è rimasto quel trauma e non sono mai riuscita a superarlo e non guidare la macchina è una cosa invalidante soprattutto per una viaggiatrice come me che ha in cantiere dei viaggi che posso fare solamente in auto e in questo 2018 ho deciso di dire basta basta amaxofobia io adesso affronto questa paura innanzitutto andando a scuola guida perché io la patente comunque ce l'ho l'ho rinnovata così posso tranquillamente guidare come e quando voglio e riprendere appunto a guidare in più ho deciso anche di prendere appuntamento con uno psicologo per affrontare tutto questo infatti e vediamo il da farsi insomma vedere effettivamente come affrontare questa paura e di risolvere e di mandarla via per sempre in modo tale che posso acquistare un'auto e guidare da sola come tutte le persone normali so che ci sono tante persone affette da amaxofobia è una fobia piuttosto diffusa e in questa serie di video vi racconto i vari sviluppi sia con la scuola guida io sto andando all'autoscuola fulvia a saronno che tra l'altro è molto professionale sono molto seri e anche spiritosi perché la mattina o comunque un paio d'ore prima dell'appuntamento ti mandano sempre messaggi molto spiritosi tipo due amiche che parlano oppure il pesciolino che scappa dalla boccia che vuole essere preso dal gatto e dice meglio che scappo che all'orario stabilito ho appuntamento con l'autoscuola e devo dire mi trovo molto molto bene e piano piano sto cercando di scacciare via questa fobia molto invalidante la prima puntata di amaxofobia vattene via è terminata spero che questa serie di video possa essere utile a qualcuno e se volete condividere questa esperienza chi la vive chi l'ha superata a me farebbe molto piacere ci vediamo al prossimo video